Una carezza Corrosa dal tarlo dell'insania, giunta al declino e la mia mente, e confusa dall'ancinante smania, pretende d'essere onnisciente. Nel verdeggiante e mistico Parnaso si compie del verso lo scempio, giacché ogni pascolo è stato invaso da turpiloquio e suono empi. Navighiamo mari che tanto oscuri non s'erano nemmeno immaginati, lutti di pattume e idrocarburi da miasmi in tempesta increspati. Despota regnante ed indiscusso si concreta in ogni umana attività quello che oramai non è più un lusso, cioè l'agire nell'illogicità. Per la lotta fra Valoria con Zanti si impiega qualsiasi conoscenza e mezzo gesto incentivanti la frammentazione della coscienza, poiché nel marasma informativo e nel plagio ad esso conseguente si persegue un unico obiettivo sostenere una verità apparente. Nel rimirar la biega pantomima di cotante becere vicende la tolleranza presto si sublima e al disgusto supremo si arrende, consentendo solamente di ambire a quell'istante di grazia assoluta che liberante possa scaturire la tenera carezza sconosciuta. Grazie a tutti.